Un balletto, una speciale versione di Carmina Burana Lo spettacolo Carmina Burana con le coreografie di Freddy Franzutti Il balletto del Sud racconta con un nuovo linguaggio artistico il passaggio spesso doloroso dall'adolescenza alla maturità Un'opera intensa, originale ma con una sua vena ironica Questa sera all'Anfiteatro Romano di Lecce il 16 agosto al Teatro La Versiliano, Marina di Pietrasanta La produzione compie quest'anno 10 anni uno degli spettacoli più di successo della compagnia abbiamo replicato in festival nazionale e internazionale Ovviamente l'afflato vitalistico della partitura la musica di Carlo Off dà grande energia è una musica anche violenta La coreografia ha un risultato importante e un grande impatto sul pubblico